Vediamo adesso un esempio di conversione veloce da base 10 a base 2. L'obiettivo, come vedete, è il 75. Allora, partiamo a scrivere le potenze del 2 con l'1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. 128 è troppo grande, quindi possiamo tranquillamente cancellarlo. Bene, allora confrontiamo il 75 con il 64, possiamo fare la divisione, la sottrazione, quindi scriviamo 1 e scriviamo la differenza che 75 meno 64 è 11. Passiamo al 32, questa volta non possiamo farla, quindi scriviamo 0. Passiamo al 16, anche in questo caso non possiamo farla. L'8 invece sì, quindi possiamo scrivere 8 e scrivere qui la differenza 11 meno 8 che fa 3. Anche in questo caso 3 meno 4 non è possibile, scriviamo 0. 3 meno 2 fa 1 e 1 meno 1 fa ovviamente 0. A questo punto siamo arrivati alla fine e questo è il numero convertito.